Simona io ti sfido. Va bene Squalozzi ci sei anche tu. Simona noi ti sfidiamo. E a che mi sfidate? A chi conosce più prodotti naturali che iniziano con la lettera A? Ti sfidiamo a trovare qualcosa di goloso e sano che non ingrassi in meno di un minuto. Ah è così facile. Già fatto. Ma dottor Squalozzi come ha fatto secondo lei? Tac tac. L ornitina. No? Ciao amici sono sicura che almeno una volta vi siete sentiti anche voi così. È mattino. Pensavamo di avere fatto una buona colazione e invece a un certo punto tac arriva un buco nello stomaco e chissà perché la voglia di dolce. E qualsiasi cosa va bene purché sia piena di zucchero e grassi che colano perché sul momento sembrano placare la nostra fame. Veramente questo succede non solo al mattino ma tutte le ore. È appunto. Allora oggi vediamo di organizzare un'intera giornata brucia grassi. Amica della linea e nemica del grasso che ci fa sentire sazi e pieni di energia a tutte le ore del giorno. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Il mio alleato della linea è lo shape shake della foodspring che oltre ad aiutarci a rimanere in forma sponsorizza il video di oggi. Alla fine del video vi spiego come avere lo sconto su tutti questi prodotti perché risparmiare fa bene alla salute. Sentito squalozzi il suo gran trucco sarebbe un frullato. Attenzione shape shake è molto più di un frullato. È un drink proteico ma light che contiene le migliori proteine selezionate dalla foodspring e un profilo di aminoacidi completo inclusa la L-carnitina. È super versatile, sazia la fame e soddisfa la voglia di dolce. Va bene sia come spuntino che dopo i pasti. Ecco come faccio io. A colazione quando sono di fretta almeno trovo il tempo di farmi un frullato con una banana, un datoro meggiù il bello cicciotto e un cucchiaio di shape shake gusto biscotto. Questa è una delle mie ricette preferite. Se ho più tempo aggiungo anche qualcosa di solido e magari uso il frullato come base per un bel muesli o la mia colazione del barattolone. Spuntino! Se a metà mattina mi viene fame posso farmi uno shape shake gusto frutti di bosco. Eccolo qua perché io adoro il sapore della frutta fresca al mattino. Se sono a casa aggiungo mirtilli rossi, lamponi, more, bacche di goji così diventa ancora più rosso. Ma in ufficio il capo ufficio non mi fa tenere il latte di riso. Nessun problema, shape shake è buonissimo anche con un po' d'acqua. Io faccio così, metto un misurino di polvere, io faccio così, metto un misurino di polvere in una bottiglietta di acqua vuota o nello shaker vuoto e poi lo porto in borsa al lavoro. Basta aggiungere un po' d'acqua e il gioco è fatto. Pranzo! A pranzo mangio qualcosa di leggero, per esempio un'insalata di pomodori, ma senza mozzarella che non è leggera per niente. Oppure un'insalata di carote grattugiata e radicchio rosso trevisano bello croccante che adoro. Se ho più appetito preparo la mia insalatona di riso che ho descritto in questo video. Se ho voglia di qualcosa di dolce chiudo con shape shake gusto caffè che mi ricorda il gusto del caffè ma è molto più sano e mi dà tanta energia. Merenda! Per merenda adoro la frutta fresca, in questa stagione estiva mi piace tanto il cocco e il mango. Sono nutrienti, idratanti e mineralizzanti e anche proteici. Se voglio un po' di carica extra mi preparo uno shape shake gusto cocco o mango. Pensate che il gusto cocco ha anche delle scagliette di cocco dentro, una vera delizia! Cena! Arrivata cena non vedo l'ora di godermi proteine magre e verdure in quantità. Con il fresco dopo una lunga giornata di caldo mi viene una fame. Anche noi! Esqualetto sta per caricare il frigo! Per placare la fame da lupo e restare in forma senza rovinare tutti gli sforzi fatti fino adesso, ancora una volta mi aiuta lo shape shake. A fine pasto come bibita dolce è una vera goduria. Mi faccio uno smoothie con un po' di latte vegetale, dei pezzettini di cioccolato fondente, un dattero mejul e un cucchiaio di shape shake cioccolatoso. Shape shake rende lo smoothie cremoso e consistente senza dover aggiungere troppa frutta, così gli zuccheri rimangono bassi. Uso il dattero perché contiene anche grassi sani omega 3 e tanti buoni minerali per ricaricarmi di energia dopo la calura di una giornata. Prima di sapere come avere lo sconto su tutti questi prodotti deliziosi, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella delle notifiche e attivate tutte le notifiche, altrimenti youtube non vi avvisa quando escono i miei video. Tragedia! Se volete aiutarmi a sviluppare questo grande progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale, sostenetelo con un piccolo contributo mensile. Info in descrizione. A tutti voi amici la Footspring riserva uno sconto del 15% usando il link qui sotto e mettendo il codice Vignali piccolo YT grande direttamente nel carrello del sito. Ma in descrizione ci sono tutte le info. Ora condividete questo video con il mio menù giornaliero bruciagrassi. Come vedete potete seguirlo con o senza integratori. Come sapete io sono dell'idea che in questo mondo dove non abbiamo più tempo e non possiamo seguire così da vicino la qualità del cibo che mangiamo, un aiutino è doveroso. Per questo uso e consiglio i prodotti Footspring. Fateli provare anche i vostri amici e dategli il link e il codice sconto così risparmiano anche loro. E risparmiare fa bene alla salute. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo ma sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Questo grande progetto di divulgazione. Mi faccio uno smoothie con un... a presto! A presto! A presto! A presto!